Musica Ah, è lei ragioniere? Eh, sì, stavo cercando delle fatture. Io pure stavo cercando di far passare ste scatole da sta fissura per risparmiare scale. Ah, bravo, ingegnoso. Non ce la faccio più. Vedo l'ora non mi ha passaggita, prego. Musica Mi scusi, ragioniere. Ragioniere Pistilli, passi dall'altra parte, io le apro. Ce la fa? Ecco questo. Ah, ah, Augusto, ma che fa? Mi credevo che era una valigia. No, mi scusa buona. Che gli porto questa. Prendi le valigie, come va? Bene, grazie. E lei come va? Buongiorno, signora Pedona. Siete lì? Sì, sì. Stiamo aspettando, no? Ti aspettiamo. Oh! Che pozza, guarda male. Per ragioniere, non si preoccupi, siamo assicurati. Siamo assicurati. Sì, contro i furti, gli assassini, la grandina, e tutto. Facciamo scattare l'assicurazione. No, non mi sono fatto niente. Ah, non si è fatto niente, benissimo. Allora, vogliamo andare? Bene, vogliamo andare? Siete pronti? Sì, al punto. Eh, sono così. È possibile che andassi in piedi? Maggiarino. Ma dedicazione, mia. Ma, disgrazia. Qua si mettono le valigie, sì. Vogliamo andare? Sì, andiamo. Agosto, ma portate le tenezioni, ma ne a Roma, eh. Ho una paura dell'aereo, è la prima volta che volo. Ma quale paura? Ci sono io. Eh, signora Fedora, venga presso a noi, è qui il pulmio. Sì, sì, grazie. Ah, eccolo. Come sono emozionata. Oh, ma caro. Ma ci vedono tutti? Enora, Enora, ma dove ti sei? Ma lei non è Peppino? No, son Peppone e me ti bagnano un cucone. Capone. Oh, ma qui ta chica?